Sono tanti i casi di figlie e di figli che si sono allontanati dall'ascendenza mafiosa dei propri genitori e ciascuno di loro ha dovuto affrontare dilemmi profondi e laceranti, ma con il sostegno di figure adulte di riferimento. Io penso a tante madri coraggiose, a tantissimi insegnanti testardi, a tantissimi sacerdoti impegnati e sono riusciti a liberarsi dallo stigma, dal marchio familiare criminale.